Qual è l'emozione di essere qui per Papa Paolo VI, ma soprattutto per noi ambrosiani, per l'Arcivescovo di Milano? Perché è un Papa che ha dato tanto a noi, che abbiamo molto amato e siamo felici di essere qua e commossi. C'è un po' di emozione? Sì, anche a livello personale, perché io da bambina 50 anni fa ho dato la mano a Papa Paolo VI e quindi è un modo per ritrovare quell'emozione e per veramente riconoscere in questa persona un grande Papa che ha affrontato periodi difficili e che forse non è ancora stato compreso integralmente. Da dove viene? Da Bareggio. Parrocchia? Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, Parrocchia Madonna Pellegrina e Parrocchia Santi Nazzaro Eccelso. Grazie.